Ciao a tutti ragazzi, come sempre prima di cominciare con il video voglio ricordarvi che ogni lunedì facciamo una nuova giveaway e spiegherò in qualsiasi momento durante il video come partecipare, quindi seguite il video fino in fondo e buona fortuna a tutti. E se non siete iscritti potreste considerare l'iscrizione e di attivare anche la campanella, sarebbe assolutamente fantastico e quindi grazie mille ragazzi, adesso cominciamo con il video. Ragazzi tutti quanti si aspettano che i numeri dell'inflazione escono più tardi oggi e questo avrà un effetto enorme anche in Bitcoin, ma ho appena trovato un paio di grafici che devo assolutamente mostrarvi adesso e questi potrebbero essere anche più importati dei numeri che usciranno oggi. E queste qua sono cose a cui molte persone non stanno prestando attenzione, per questo voglio parlarne e ovviamente parleremo anche di Bitcoin come sempre, sia su tempi più lunghi, sia su tempi più brevi e anche della nostra strategia generale di molto altro ancora. E quindi ragazzi questo qua sarà un episodio ricco di contenuti ragazzi, assicuratevi di guardarlo dall'inizio alla fine se volete avere un vantaggio nel mercato. E come sempre bentornati a tutti, mi chiamo Marco, portano un video riguardo alle cripte ogni giorno, mostrano come fare il suono in questo mercato e se non siete iscritti potreste considerare l'iscrizione di attivare anche la campanella, sarebbe assolutamente fantastico. E quindi ragazzi continuiamo subito il grafico da 4 ore perché Bitcoin sta ancora andando di lato, possiamo vedere che stiamo trovando supporto sulla linea rossa e sul bordo della fascia arancione, quindi finora tutto quanto va bene. Abbiamo avuto una candela un po' anomla in questo caso, questa candela è andata in basso per poi chiudere esattamente dove è aperto, ma a prescindere insomma questo fatto è davvero positivo, ovvero che stiamo trovando supporto sopra la linea rossa. Ma come ho già detto ragazzi mi aspetto che Bitcoin continui ad andare di lato per ancora diverso tempo e mi aspetto di vedere il prezzo andare leggermente magari più in basso, ma la nostra posizione generale è sempre sempre la stessa. Alcune persone non erano nemmeno contenti del video di ieri su tutti quanti i canali perché abbiamo parlato dell'indice di produzione che punta effettivamente verso una maggiore inflazione e che potrebbe portare anche la Fed ad aumentare i tassi ed i mercati appunto a scendere. Ma ragazzi la nostra posizione è sempre la stessa, penso o che abbiamo trovato il fondo appunto nella candela dove siamo scesi fino a 25.000 dollari, ovvero questa candela qui, o credo che troveremo il fondo in questa zona generale insomma. E stiamo ancora accumulando Bitcoin, è solo questione di tempo ma penso che ci vorrà un po'. Andremo di lato, forse andremo un po' più in basso e poi andremo a trovare il nostro fondo, ma una volta che comincerà il mercato rialzista, come sapete non guarderemo mai più indietro a questi livelli. E quindi questa qua è la nostra posizione generale, siamo ancora molto molto bullish in Bitcoin, ma a breve termine proprio come ho detto negli ultimi 6 o 7 o 8 mesi dobbiamo essere cauti perché adesso ci troviamo in un ambiente in cui potremmo avere una certa pressione in Bitcoin e finora appunto è stato così. Ma se oggi dovessimo vedere una grande mossa al ribasso, solo come pro memoria, abbiamo anche un grande livello di supporto al limite di questo schema in questo grafico. E come vi dicevo anche in passato ragazzi siamo ancora nelle vicinanze di dove abbiamo avuto enormi opportunità di acquisto e quindi voglio mostrarvi anche questo grafico. Quando siamo scesi da questa linea rossa molto importante in passato abbiamo avuto alcune delle opportunità di acquisto veramente grandi. E se mostriamo anche un altro grafico di cui vi ho parlato anche in passato abbiamo uno schema veramente importante che stiamo seguendo anche adesso e quindi possiamo vedere che in ogni ciclo abbiamo avuto un triangolo, in ogni ciclo bearish abbiamo avuto una canale che tende verso il basso, abbiamo raggiunto la media mossa da 200 settimane. E ricordatevi anche ragazzi che abbiamo questo canale verde che è la zona di acquisto, possiamo vedere anche nel secondo ciclo bearish abbiamo avuto un triangolo, un canale che punta verso il basso, abbiamo raggiunto la media mobile da 200 settimane. Ed in questo ciclo abbiamo la stessa formazione, l'unica differenza è che non abbiamo ancora raggiunto la media mobile da 200 settimane ma ricordate che prima o poi andremo verso l'alto, quindi con il tempo se la nostra previsione di andare di lato per un po' sarà vera allora questa linea arancione continuerà a salire il che significa che possiamo raggiungere la media mobile da 200 settimane senza scendere molto più in basso di dove siamo adesso. Quindi possiamo continuare ad andare di lato in qualche modo andare anche a toccare questo livello prima o poi e quindi questa qua è la nostra posizione generale ragazzi. E se controlliamo anche i mercati tradizionali possiamo vedere che abbiamo preso una bella botta oggi o ieri insomma e questo qua è ovviamente per cercare di prevedere ciò che deciderà la Fed oggi, vedremo se alzeranno le tariffe o cosa vogliono fare. Ebbene possiamo anche vedere che abbiamo anche dei punti di riferimento che voglio mostrarvi e quindi l'aspettativa adesso è dell'8,3% e se guardate il mercato adesso abbiamo il 44 o quasi il 45% di persone che crede che i tassi di inflazione riportati saranno effettivamente al di sopra delle aspettative il 30% pensa che saranno a 8,3% che è quello che prevedono e solo il 24% crede che sarà al di sotto delle aspettative quindi possono essere informazioni preziosi se pensate che il mercato andrà a registrare tassi di interesse più alti ed invece andranno a registrare qualcosa di più basso. Se controlliamo anche il Nasdaq invece rispetto all'SP500 perché è quello che controlliamo di solito quindi il Nasdaq anche oggi è sceso molto e ci stiamo trovando proprio ora ad un supporto chiave e se dovessimo scendere da questo supporto dobbiamo essere pronti per vedere una discesa su tutta quanta la gamma ragazzi quando si tratta di tutte e quante le risorse in pratica. E che mi porta anche a mostrarvi un altro grafico molto importante e quindi ragazzi questo in realtà è un confronto tra loro e i mercati delle azioni che entrano in un periodo di recessione e ora andremo in un periodo di recessione onestamente non lo sappiamo ma abbiamo la bolla del .com e quello che possiamo vedere sono i tassi di interesse a colori e quindi abbiamo il 4% di tassi di interesse, abbiamo il 5%, siamo saliti fino al 6% e quando è blu invece i tassi di interesse sono più bassi come il 3% o il 2% e così via e quindi ragazzi quello che possiamo vedere è che entrando in un periodo di recessione il mercato delle azioni è andato in realtà abbastanza bene e poi abbiamo l'oro che è andato in alto, non è andato così tanto bene e quindi il mercato delle azioni ha sovraperformato l'oro ma una volta che siamo entrati in un periodo di recessione possiamo vedere che il mercato delle azioni ha davvero preso una botta poiché i tassi di interesse stavano scendendo per provare a stimolare il mercato ma durante la recessione loro è effettivamente andato verso l'alto quindi loro è salito ed il mercato appunto delle azioni è sceso durante la bolla del .com e restate con me ragazzi poiché questo è un grafico importante c'è un punto che voglio anche sottolineare quindi diamo un'occhiata anche alla crisi finanziaria per esempio del 2008 perché abbiamo anche qui una cosa importante abbiamo avuto la stessa cosa abbiamo il mercato delle azioni che sale mentre ci avviciniamo ad un periodo di recessione anche l'oro è salito ma poi abbiamo avuto una crisi di liquidità entrambi sono scesi il mercato delle azioni è crollato anche l'oro è sceso ma non così duramente e poi guardate perché l'oro ha iniziato ad entrare in recessione quasi a metà l'oro ha iniziato a salire mentre invece il mercato delle azioni ha continuato a scendere per un po' e poi il mercato delle azioni è salito quando abbiamo visto molti stimoli nel mercato in pratica hanno inserito un sacco di soldi nel mercato però potete vedere che l'oro ha sopraperformato il mercato azionario in entrambe queste circostanze e quindi ragazzi la domanda è questa cosa farà Bitcoin adesso? perché Bitcoin non è mai stato in una fase di recessione in passato quindi Bitcoin adesso è correlato più al mercato delle azioni piuttosto che al loro ma questo è qua ciò che spero che appunto cambierà e quindi se entriamo in un mercato bearish a lungo termine spero che le persone o che Bitcoin possa assumere il ruolo dell'oro digitale diciamo e spero che questo sarà il punto di rottura quando Bitcoin non sarà più la risorsa correlata al mercato o non tanto correlata al mercato delle azioni poiché potete vedere che anche loro in questo caso era un po' correlato al mercato azionario ma poi dopo ha cominciato a cambiare durante la bolla del punto com e durante la grande crisi anche finanziaria e quindi ragazzi si spera che Bitcoin possa fare lo stesso se entriamo in qualcosa del genere e Bitcoin davvero è la risorsa perfetta nei mercati rialzisti ha notevolmente sovraperformato i mercati delle azioni e altre risorse in passato ma si spera che anche in un mercato bearish prolungato si spera appunto che Bitcoin possa cominciare ad essere meno correlato rispetto ai mercati delle azioni e comincia a salire mentre invece il resto dei mercati vanno più in basso e quindi insomma questa qua la nostra posizione generale è quello che pensiamo speriamo appunto che accada per quanto riguarda il prezzo di Bitcoin perché sarebbe veramente fantastico se Bitcoin andasse ad assumere un ruolo tipo quello del loro correlato appunto al mercato delle azioni e inoltre ragazzi voglio anche informarvi riguardo il 75% dei retailers americani, degli USA sono favoritivi ai pagamenti in crypto quindi il 75% si aspetta di accettare pagamenti in crypto o stable coins nei prossimi due anni e le crypto e Bitcoin in questo ci mostra ragazzi che sono qui per rimanere e speriamo che appunto come vi dicevo prima che se dovessimo entrare in un mercato bearish prolungato si spera che Bitcoin possa cominciare a non essere più correlato ai mercati delle azioni ma cosa ne pensate ragazzi? fatemi sapere nella sessione dei commenti stiamo cercando di far diventare Bitcoin dello standard stiamo dedicando appunto il nostro tempo affinché ciò accada e quindi sono molto fiducioso in questo e vedremo appunto quello che accadrà nel mercato adesso stop un attimo il video e vi spiego come partecipare alla giveaway per partecipare alla giveaway dovete semplicemente essere iscritti al canale e rispondere a questa domanda nella sezione dei commenti pensate che vedremo un nuovo minimo? pensate che abbiamo già trovato il fondo? fatemi sapere nei commenti ed inviate anche il vostro portafoglio di Binance Smart Chain altrimenti non possiamo selezionarvi come vincitori è giusto per chiedere basta inviare il portafoglio soltanto una volta anche se rispondete a più video e più domande e noi controlleremo l'indirizzo tramite lo storico dei commenti e quindi ragazzi buona fortuna a tutti e adesso continuiamo con il video e inoltre ragazzi se volete anche iniziare a fare trading di criptovalute come sempre potete richiedere fino a 4.500 dollari su Femex e fino a 4.530 dollari su Bybit assicuratevi di controllare questi link se volete ricevere questi bonus e ragazzi questo qua è quello che ho per voi oggi grazie mille per aver guardato questo video come sempre e ci vediamo nel prossimo ciao a tutti